Cosa è YouTube? Ah! Dei YouTube! Ah, sì, sì, sì! Allora, Antonello Cabras, il Partito Democratico ha vissuto dei momenti così di turbolenza, le cose sono rientrate oppure no? Tutto superato, adesso pensiamo a cercare i voti, a vincere l'elezione. E quali sono le sue sensazioni? Buone! Che cosa si augura? La vittoria, ovviamente! C'è qualche candidato che sta appoggiando in modo particolare? Venga, allora, e li ho corda! Grazie! Grazie!